Era il 30 novembre 2017 quando Elena Santarelli e il marito ed ex calciatore Bernardo Corradi hanno saputo che il figlio Giacomo era affetto da un tumore al cervello. Da quel giorno sono iniziati mesi difficili in cui tutta la famiglia ha dovuto affrontare la tragedia di una malattia così dura. Ora però il piccolo di 10 anni ha vinto la sua battaglia e mamma e papà possono tirare un sospiro di sollievo. La vita della showgirl è però cambiata per sempre. Ho smesso di fare programmi, ha raccontato al settimanale Oggi. La vita insegna che oggi sorridi e domani piangi e io non sapevo come sarebbe finita. Quando pensa al futuro la Santarelli ha un solo obiettivo. Voglio una vita serena e senza traumi.